te non sei uscito dall'acqua e quindi non tecnicamente non ti rimetto ciao bello grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille benit 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 grazie mille bene 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 ragazza cosa ci facevi in mezzo ai siluri eh ma che bell'orologio tonda ha mangiato nylon del 28 giallo fluo testino da 5 grammi che forte che sei decisamente decisamente mangiato eh tra l'altro tra l'altro amo 2.0 non piccolo non piccolo di certo ma che bell'orologio che sei tonda tonda ciao bella vai torna a nuotare di là di là devi andare vabbè vai dove vuoi che sei grande e maggiorenne grande e maggiorenne grande e maggiorenne grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille